Benvenuti al nostro Makna Tech Lab, oggi vi vogliamo presentare il nostro pantalone Bombar. Si tratta di un pantalone cargo, con tutte le caratteristiche tecniche di un pantalone cargo, con le tasche laterali. Le due novità di questo jeans sono i rinforzi in aramide all'interno del tessuto e si tratta di un cotone twill elasticizzato. Possiamo vedere che il prodotto è molto performante. L'altra novità importante sono le zone di mesh, sia davanti che nella zona posteriore, dove andiamo ad identificare il passaggio dell'aria dal davanti al retro per permettervi una perfetta circolazione dell'aria durante la guida nelle soluzioni più calde. Le colorazioni del jeans e del pantalone Bombar le potete trovare sul nostro sito www.macna.com